Per contrastare l'aumento dei ricoveri in provincia di Teramo, le autorità locali si sono riunite per individuare provvedimenti per contenere la temuta terza ondata, in particolare misure più restrittive contro il fenomeno degli assembramenti, la movita incontrollata, pensando anche alla chiusura di piazze e strade, argomento che è stato al centro dell'incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata d'urgenza dal prefetto Angelo De Prisco. Per questo motivo a Teramo il primo cittadino d'Alberto ha firmato un'ordinanza che vieta nel weekend il consumo di cibi e bevande negli spazi pubblici dalle 16 alle 22. Abbiamo intensificato in modo radicale le misure che abbiamo già adottato a gennaio, quindi il divieto assoluto di consumo di cibi e bevande in spazi pubblici, aperti al pubblico anche nelle immediate vicinanze, nelle adiacenze dei locali, dalle 16 alle 22. Pertanto il divieto assoluto è una misura molto forte ma che si è resa assolutamente necessaria per un'emergenza che non appartiene solo alla nostra città, un'emergenza di tutto il Paese che incide soprattutto sulle città di maggiori dimensioni, le città capologo di provincia che sono attrattive. Ci muoveremo nell'ottica della gradualità, nel senso che in questo momento abbiamo adottato queste misure restrittive, importanti, significative, ma se non dovesse esserci una risposta adeguata in termini di responsabilità e consapevolezza aumenteremo ulteriormente le misure restrittive. Ci muoviamo così, cercando di cogliere il problema, di rimuoverlo e di risolverlo. Ovviamente l'altro aspetto è quello relativo all'obbligo di garantire una regolamentazione degli accessi all'interno dei distributori automatici, altri spazi che si sono rivelati nel corso delle relazioni che le forze di polizia ci hanno fatto, delle segnalazioni, luoghi a rischio di assembramento. Queste sono le misure in questa fase molto importanti, significative, dalle quali ci attendiamo una risposta importante. La nostra comunità ha dimostrato di saper essere grande, di saper rispondere all'appello che abbiamo fatto, soprattutto nella prima ondata. Possiamo e dobbiamo farlo anche adesso, perché adesso è un momento decisivo.